su di Orgosolo e guardate questi straordinari quanto luminosissimi abiti della tipicità orgolese venite qua avanti ancora due giovani Gaetano che ci propone Passo Torrau e Passo Torrau e Suballu Zutonanzelu che era un suonatore di Orgosolo scomparso tra le altre cose ha lasciato una bella eredità e il suo organetto diatolico viene sprigionato nelle sue note grazie al figlio Nicola Gotti ma adesso con noi Gaetano Bassu e questa bella coppia di Orgosolo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti